Trionfo di Josue Crescioli della Pitti Shoes Ciclita Day alla 57esima Coppa Pietro Linari, riservata alla categoria Juniores, che si è disputata nei giorni scorsi a Borgo a Bugiano. Al primo anno in questa categoria il Toscano Crescioli ha così conquistato la sua prima meritata vittoria sulle strade della Valdinievole. Il successo è arrivato grazie ad un suo attacco nell'ultima discesa da Colle di Bugiano, una picchiata verso l'arrivo che gli ha permesso di arrivare sotto lo striscione del traguardo con una manciata di secondi su Alessio Acco della World Service romagnano e Martin Marcellusi, il pirata sniper world bike, terminati nell'ordine. Buona l'organizzazione! La cronaca dettagliata della corsa verrà trasmessa in uno dei prossimi appuntamenti della trisettimanale Toscana Sprint in onda su Sport TVL alle 22 il martedì, mercoledì e giovedì. Volevo fare, ero un po' scaramantico però devo dire che ci credevo e sono felicissimo di aver colto questa vittoria che sognavo da tempo e sono felice. Senti, un grande attacco in discesa, hai fatto una discesa veramente incredibile. Sì, ultimamente sono migliorato in discesa, non ho neanche rischiato più di tanto sapendo gli ultimi fatti che mi dispiace di quel ragazzo del Mastromarco di cui mi mando i saluti e spero che guarisca. Però ho guadagnato qualche metro e poi nel dirizzone ho cercato di andare a tutto, ero carico e ce l'ho fatto. All'inizio non ti sei mai voltato poi gli ultimi due chilometri? Ti voltavi quasi continuamente, avevi paura che ti prendessero? Sì, nelle ultime gare ero sempre stato ripreso agli ultimi chilometri e i primi chilometri ero un po' quasi indeciso dai, però poi sono arrivato a 800 metri e era una gioia pazzesca, non so, dai tempi della Dino Didi forse. A chi lo desichi questa vittoria? A tutta la mia famiglia, alla squadra, tutte le persone che mi stanno vicino e credono in me. Grazie a tutti, grazie a tutti.